A Teramo la Giunta Comunale ha dato il via libera per procedere in maniera definitiva al potenziamento e ampliamento del centro di raccolta rifiuti di Carapollo all'interno del pollo della Team, struttura che i cittadini potranno usare per conferire i rifiuti che non si vogliono tenere in casa in attesa del giorno di ritiro previsto nel calendario settimanale. Il progetto messo a punto dalla Team, che ha anche gestito l'appalto, prevede l'ampliamento dell'attuale centro di raccolta, a cominciare dall'ingresso e dal percorso per raggiungere i punti di conferimento dei diversi tipi di pattume. Questo comporterà sicuramente un aspetto migliorativo per i cittadini perché il miglioramento del centro di raccolta permetterà una funzionalizzazione anche e soprattutto negli orari di apertura. Un problema che avevamo riscontrato e per cui eravamo stati sollecitati spesso dai cittadini era che Carapollo era aperto semplicemente nell'orario pomeridiano. Questo ci permetterà di far accedere anche i cittadini attraverso un percorso diversificato rispetto a quello dei dipendenti Team, degli operatori che quotidianamente durante l'orario soprattutto mattutino conferiscono le raccolte domiciliari nelle nostre abitazioni e permetterà quindi di avere un'apertura quotidiana di ampia fascia. Ovviamente il centro di raccolta per le sue regole resta lo stesso, ovvero sarà possibile accedere all'interno per tutti coloro che sono cittadini del comune di Teramo e che hanno chiaramente l'iscrizione a ruolo Tari in regola. L'intervento appena appaltato e che vedrà la luce nel prossimo anno rientra in un piano più ampio di crescita del polo gestito dalla Team che sarà messo a disposizione anche di altri comuni della zona. I lavori sono stati affidati alla ditta ma prima di procedere all'appalto il comune di Teramo ha dovuto ritoccare i costi di realizzazione dell'opera, questo per effetto del caro materiali. Questo che cosa comporta? Comunque un adeguamento anche del cofinanziamento per cui la regione Abruzzo darà al comune di Teramo per questo progetto intorno a 194 mila euro, la restante parte sarà per il 30% preso da fondi propri del comune di Teramo e la restante parte, gli 11 mila euro eccedenti, saranno invece presi attraverso il ripasso d'asta.